iscriviti al canale ok si si socio sarà perenne si 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 io ho uno start interessante madonna sta roba potrei prendere le gemme che start hai? il 2-3 ora 2-2 non so lo scudo e forse allora ci sta per te prendere il device sull'altra qua non faccio se non fai niente compri in pezzo 2-2 forse meglio di kind di grand madre no forse no perchè lui è la kier appunto appunto c'è proprio il bello della 2 è difficile il primo 2 buona battaglia questo è schifffare il passeggero è stato bad forse si il passeggero è forte forte infatti non lo so però l'altro è la divine quindi boh cioè non è che l'hai schifffato per una merda no 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 ovvio ma io qua direi e via avevo la naga 1-3 il passaggio da uno all'altro io avevo una paura laggasse tipo fosse buggy invece devo dire che il passaggio dalla taverna di una a quella dell'altro è è veloce è molto clean e pulito questa è la mia grande preoccupazione quando uscirà laggerà come non so cosa questa roba invece molto clean eh i due ping prova a farmi dei ping ho mandato un segnale e dove l'hai mandato? ancora ora 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 tu dove lo vedi praticamente? com'è che funziona? eh li fai e li vediamo cioè nel senso quello che poi se io vado nel tuo diciamo nella tua board ah ok ok si si eh come tutti i giochi anche Call of Duty per dire fai il duetto sei l'amico in call e non in casual altrimenti starti in singolo si effettivamente posso dare una moneta eh eh la moneta ti dico non mi serve troppo perché c'ho la naga che cioè è forte eh quella la 3-4 qua da tenere per il turno dopo eh una moneta in più in mano è buona però dico non è necessità ora della moneta io ok c'è da dire che lo prendi quel pezzo no penso si l'alternativa è fare mela è buffo zanatosta io ti dai la moneta per due ah vedi tu vedi tu vedi tu è più fuori l'unica sfortuna è che in questo orario deve giocare con quello scarso di Budi eh vabbè ragazzi eh no quello spiace insomma c'è c'è secondo me era meglio fare così che mela cioè boh alla fine mela nelle duo secondo me è meno forte overall perché il power level più che altro mela era molto forte anche per le quest cioè secondo me ora penso un po' di power level il mio KB mi da mette un pezzo baffato tutti i tuoi diciamo bella matti Vic mi sei capitato anche voi ieri sera abbiamo avuto di bug clamorose in duo ci sparivano le carte dalla mano no non mi è mai capitato né qua né quando ti è stato in anteprima c'è caso che abbiano fatto un hotfix notturno essendo uscita ieri come modalità molti meno bug di quelli che mi aspettavo per dire la verità e poi fai moneta a capire anche però si dai meglio io lo faccio è che all'hackier mi prendeva meno danni però insomma ci sta tanto io prendevi 3252 alla fine e mi gioco 5050 del destino che ne pensi eeeh allora in che senso così guardalo ok ah nulla di merda ma se lo fai ma non c'è noh no 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 per me un cagliucco che ho visto no cosa ho appena visto merda ma il sangue agli occhi no cosa appena ho visto veramente no io devo perdere mmr per colpa di uno del genere che schifo cazzo no questo è una schifo mi devo perdere mi devo perdere per colpa di uno che fa una play del genere ma sto giocando caso al budy oh mio dio che pezzo hai peso tu passami un demone passami un demone ne do pure uno forte quello che baffa gli HP in taverna mamma mia ma cosa mi tocca fare è incredibile devo carriarla non risponde più si si è annichilito non so se ha senso prendere pari al suo livello questo è meglio di Galli è solo per sto turno è vero cazzo ho sbagliato ti posso passare tu che taggai? eh ho ti ho imitato il turno prima il tuo è stato più grave però molto più grave eh quello senza dubbio che taggò ho non morto naga bestia infatti ho varie tribe diverse gioca il deopa 1 gioca la stella no no femmone ma merda una bella naga ci fa comodo è un po' terribile sta roba forse è lui addirittura è un po' terribile merda veramente c'è eh tu lei ti ho passato a passare il bambino però te l'ho passata taibi guarda Woody che cerca di farci perdonare della misclamorosa del turno prima passando spera caso veramente c'è non funziona così Woody l'hai trovata proprio in maniera cramorosa cioè l'ho fatto la play alla fine cioè nel senso cioè è una grave grave qua ce la fai a vincere o no sì 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 bene tutto calcolato questo yearly game vabbè io sto cominciando a baffare la taverna mi sembra di capire allora questo vero spino allora rubo una carta selezionato il servitore inizio del combattimento trasforma nel servitore più alto del tuo partner tu ce l'hai quello al 3 grosso no? quindi non è male in realtà se piglio questa io trasformo un cesso in una roba comunque umana si ha senso però a me piace anche il tirappo poi prendo il secondo 7-4 vi dico la verità e vendendo 2 mi piace a me il tirappo è un po' gridi però secondo me nel duo ci sta a gridarla un minimo sì ci sta assolutamente io qua non so se devo avere 5-4 giusto prendevo la coin è vero vendevo questo ora questo è più forte se la terebili per sbaglio fino all'ok così ci prenderesti nel mio spot allora c'è uno più una bestia è il 6-5 no anche il 4-5 è forte il 4-5 è buono cazzo però sì ti tanca danni più che altro secondo me non è male pigliare sì è buono buono quello è buono è clean ok stai andando bene andiamo sono diventato un primino più forte tu hai livellato no sì 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 io dovevo giocare un po' più tempo livellato e ma ti dico questo è al 3 al 3 vigore in 2 è una merda però cioè perché altrimenti si muore molto più tardi la prima coppia tecnicamente quindi gli turni senza fare un cazzo noi prendiamo qualcuno però magari ora si stabilizza ci spera ci spera dai vabbè potrebbe andare molto peggio posso dire eh sì sì no 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 quello senz'altro è gigantesco allora passa un servitore non dorato seleziona due e questo è che attacco cosa è meglio forse per il fight questo vero quello che passa allora il poetale per me è caita poettissimo qualcosa che ti serve ti direi di no al momento di qua no non mi sembra se non so di prendere questo io non si è avveniente al momento questo ok il diago che attiva i battle che hai passamelo 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 così io attivo quello che mangia la taviana quello con spellcaft sì sì stavo ragionando se ha senso giocarlo prima ma no io cosa faccio qui ragazzi prendo una gemma ciascuno non penso vero fa merda cazzo gemma ciascuno mi sa che da taunt a lui con questo e via sta passando una spella no non è vera dammi roba del genere facciamo meno questa più attacco quindi magari qualcosa traddono io dovrei fare rilac e baffare la taverna tu ancora non lo sappiamo è che non abbiamo fatto taifle senza fare taifle è più difficile eh vabbè si serve triplare al 6 cioè ah perché tu hai usato quello lì sul buff della taverna ok si quanti ne prendo eh c'è d'altro ah questo non tantissimo eh tanto c'è il cap però più o meno è che questo è ancora al 3 noi noi ti rappiamo un po' di più overall vedo degli altri questo è il 5 oh questo è forte minchia no io ho tratto l'ailac che è molto forte aspetta io ho il 7 4 che baffa la taverna di 2 1 di tutti è forte se vuoi poi passarmelo io c'ho giochieri quelli cioè se me lo passi io c'ho il ilac e lo attivo due volte si 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 no te la passata la passata si si attivo batte la speck il batte crescono questo salto e compro lui sicuro voglia Dennis lascia stare oh Urzul minchia è buona quella là che baffa la taverna giocala dio buono aspetta è la mattanza questa buono anche io l'ho rollata forse ci sta a prendere un paio di danni tanto utile puzza sta roba ho il passo dorato però questo salta sicuro qua non so se pigliare ci sta il passo questa è tripla per te mi sa te la passo sta roba mi sa si passano passano la taipa la taipa no te l'avevi passato per sbaglio no mi ha mandato il totale ma budi si è freddo no merda oh mamma budi mamma mia merda veramente cioè ma budi ma questo qua sei con la testa fra le nuvole ma è vicinissimo la bond mamma mia dai oh dammi i pezzi dammi i pezzi merda budi veramente non si può però così no così non si può però cioè mamma mia vedi questa è la dimostrazione che se budi non giocasse 15 volte nel mio ore c'è proprio guarda che roba vai vai ci viene dato un sacco di pezzi buono ottimo lavoro ottimo lavoro che dico quel pezzo è vero comunque eh beh sì che lo tengo è ovvio a me se non avessero i buoni nai l'h adesso oh buono quello è triplo è distruggito è solo che non posso rollare cazzo ma questa alce ti serve quello che scusami ti passo un pezzo che sono ma è poettissimo a me budi serve quello che non mi fa di cavaliere per te aspetta ah sì sì passa tutto minchia quasi quasi qua è da tirappare questo salta questo salta come devo tirappare quel diago non me lo passi mi sento vale quel diago non so se vuoi passare vuol dire che ho paura che l'hai inti se ti passo questa hai capito no 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 non passarmelo non passarmelo no scherzo che faccio fatica a passartelo ma partire no 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 è meglio si giochi full board direi lo terrei mano per dopo cioè io la giocherei così qua e via questo lo gioco davanti questo qua questo è un vendetta no sì allora distrugge il servizio il servizio con meno salute ok questa la faccio perché ah no con meno salute no ok no sto fermo così guarda dopo piglio la spelba affia la taverna via andiamo un attimo ai derbudi che non vorrei facesse qualche altra cazzata altrimenti andiamo un attimo a sorvegliare perché vorrei dover perdere mmr è vicinissimo il portale alla board mi sono dimenticato non ho visto i board sappilo passami i pezzi che roba di matti ho proprio riprezzo per forza tanza la mia board non è ancora così forte ma ora diventa abnorme perché ho livellato al 5 ho tirato la gridata matta a me serve il pezzo che non fa prendere danni quando rollo perché ho il tipo dei roll a gratis che però è dorato quindi è forte a tenere giù non è male la mia board è male stimolisse qualche pezzo sarebbe comodo però non andare sotto bella quenzo quenzo come non capisci nulla dovresti essere sul pezzo dai fatti morire un altro pezzo bravo è morto è morto è morto ottimo 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 io non andrei sotto cap serve quello che è due ricariche con quello lì vabbè sì sì buono però c'è la roba allora questo ok ti serve questo qua che attiva il battle cry booty eh se me lo mandi quello è forte perché è sempre forte a me servono spell e demoni se mi vuoi mandare qualcosa comunque ho trovato la roba che mi serve io lo prenderei il pezzo che ti genera pezzi in mano ecco ho bisogno di spazio io qua guarda che roba che c'ho sì sì vendilo 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 non c'è niente mai ti passa una spell che forte secondo me sì sì a me le spell servono perché ho due di quelli che mangiano quindi sono huge a me servono demoni e spell se tu mi passi demoni e spell io mi baffo come non so cosa facciamo così allora sì quello mi piace è una spell che ho tirato quella oh madre c'ho due triple per te mi sa mi sa che roba è solo che non è clean sfac giocarle anzi no no aspetta sto fermo così sto turno aspetta aspetta non giocare non giocare le frizz frizzle 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 ah prima potessi giocare dei demoni per mangiare di più però stiamo a 23 ho preso anche l'armor stai fermo stai fermo sì sì figo io come stalo una volta che abbiamo la taverna baffata poi ci lavoriamo io sto cercando di baffare più che altro la taverna di thunder perché lui deve fare deve mettere le stats sì se baffi la mia taverna io qua divento enorme c'è forte sta roba servono spell e robe così e sono abnorme quindi allora compriami prima la tripla allora aspetta uso due volte la cava sto pensando compriami subito la tripla del deago la faccio e poi non è veramente morto quel bocchino prima porco dios ok non è morto il bocchino ma questi ce ne suonano questo è enorme cazzo quanto scala sta roba questo non so se lo batto ora dovremmo ora dovremmo diventare diventare enormi sto turno io divento gigantesco sì quello sì cioè abbiamo abbiamo affatto la taverna tantissimo e prendiamo 15 però no sì uno lo battiamo lo spacchiamo potremmo anche spaccare tutte e due forse ah no no ma pensavo fosse il primo dei due questo il secondo il secondo ok ok easy ti mando ti mando le triple quindi mandami prima quella del deago se che io porca troppo io ce l'ho gallewix no mandami solo quella del deago quell'altra ce l'ho ok ok quindi ti mando il drago va bene va bene perfetto allora aspetta a giocare la roba aspetto che tu mi buffi la la roba no la sì sì aspetta che magari ti ho bian non ho tirato bian vai ho baffato un po' ok minchia questo triple serve il battle cry no no non riusciamo non riusciamo no tu pensi alla tua boe non hai sì 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 eh questo non so neanche se ci sta questa play per qua è buona a tirare è buono anche rollare però forse questo è buono minchia stare forte c'ho un rilac ma no vorrei riprendere questo eh rilac eh eh rilac lo tolito non ce la faccio non ce la fai? eh allora più che altro che io ho solo demoni quindi se li gioco mangio un pezzo in taverna non posso far saltare questo perché è un 180 sì vabbè vabbè va bene ok ti passo io un demone poi si rollo quindi no? eh sì lo butti via sì sì ti passo un demone tanto uh sì sì che riuscissi qua top forse se riesco a mangiare quello là huge questo ah ragazzi rilac il late è fortissimo te lo ripasso quello che è un undead è un close ok ok nice bello beh devo tirare questo sei diventato riazioso comunque sì 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 la mia bordo ora è buona io ho trovato io ho trovato un'eilac che ti ho trovato di vineshield non doveva ma in senso hai venduto la coppia più grosso Mattia ho venduto la roba che non scala a me serve quelle che scalano con le spele e urzuli il resto è merda la tengo bro la fuffa zio peronto tanto nel mio piccolo lo scaling inutile no ma cioè serve che te scali la taverna io divento enorme anche perché ti ho visto un po' in difficoltà cioè nel senso non è che sono in difficoltà ho fatto un piccolo errore di calcolo una certa dai ci può stare ti ho preparato la strada ce la fai a batterlo questo io non so di sì non so poi mi sembra che tu abbia una spell che forse dovevi giocare tu inno scorso l'ho presa l'ultimo secondo Budi eh vabbè è come esaltarsi di avere il demone da mangiare poi ti rendi conto di non avere il demone giù diciamo che sono dei due dei gravi tampa diverse se posso se no qui questo è ok tanto ma baffa tutto questa roba questo è tutto no 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 tribes altrimenti devo imparare bene le tribe dei pezzi no quelle non morto suca eh brane forte si trovo cambio potere eroe no brano piglio ragazzi al post di questo ci sta vero un braniolo un sacco di gold si tops disgustosa beh là l'armor al 5 la gioco che cazzo me ne frego addonna sta roba disgusto un gian qua vai oh madre di dio oh madre di dio mizzi che cambiare il h no direi che difficilmente battono sta battono sta roba comunque se tu hai dei generatori di spell combatte a me la cosa che è più forte per me ora è se tu mi passi dei generatori di spell combatte c'è tipo il quello che discovera la spell eh sì io è disgustoso con brano io sono sempre davvero a 4 ma questo che fa? fa sul serio? dai che è sto bidone di board l'unico problema è che è così scarso che ti spacca le coltiste ma non ci sia un vero spin in giusto? no sì sono io ok non ce ne ho fatto caso non gli sta giocando nessuno ma i cinghiari no gli stava giocando credo Budi fai il buffone perché tu lo stai carriando che brutta fine il Budiante vabbè come? gli sto mettendo guarda gli sto facendo delle board gigantesche è già incredibile c'è rispetto proprio tieni guarda appena rollato sei dal dado ma Budi ho una domanda se tiri il dado ti esce ancora il triple set io non ho parole non è cos'è che fa questa? ok il musino è buono veramente è qui porco giù da sta roba sei fortissima cazzo è legale qua non so neanche che fare probabilmente ti passo pezzi e ciccia ti passo un bel musino sì il bel musino è rotto per me Mizzica è fortissimo eh quello è forte per te Diano è forte anche per me in realtà potrei giocare lui via quello ah passami delle monete vai questo è forte cazzo perché mi va a fa anche loro eh sì se tiro i dado mi esce ancora il triple set non ero per sempre sai di Tony F va bene trappata pazza questa questa lo frizzo fortissimo molto bene eh no non mi serve necessariamente cioè se vuoi spenderla spendila non mi serve tanto perché l'ho frizzato quindi non la posso neanche giocare anche io direi molto probabilmente di sì buddies le due stelte a destra che carta è Stara evoca il primo demone che muore quindi se mi muore un 700-700 lo rievoca dopo con l'incantamento quindi se è divine evoca con divine anche fortissimo i rila carbon eh bappiamo un sacco la taviana tutti tu quindi sì sì è stato rottissimo cioè io questi li eliminiamo ma dico questi li eliminiamo eh questi non so questo è il primo mi sa no? ma questo tu appena lo vedi lo spacchi perché io gli spacco tutto fuori del panzone probabilmente penso che li eliminassi ho tre pezzi che hanno 800-800 no sì 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 penso che è quello dopo a meno che non abbia chissà che roba va al bar qui c'è quel pezzone lì che fa e fa la fine del gatto è fisterone dopo in caso guarda qui guarda no bam buongiorno era la nostra void sky quella che hai appena giocato non tu mi hai appena giocato pulito un'altra vittoria questa ha giocata bene però eh da parte mia sì giocate esotiche mi sembra che baffare la taviana sia fortissimo in duo sì 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 è sicuramente fortissimo triplo triplo primo su ogni cosa mamma mia che potenza triplo uno triplo uno un'altra vittoria un'altra vittoria di un'altra vittoria Grazie a tutti.